... ... ... ... E poi si boxe davanti E poi ci sono mostrami Scusi di spettaro Si E di che Fai 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 che Fai 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 No, 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 a bè Bajram bè e'lo e'lo bedri da vedi bè ah Bajram bè ah muè bà mai muè bà mai kata nov traktor bè a bè ti si za toccac bè c'è di kupa menen toccac e'lo va bè muè bà mai kata bè Bajram pazi Ulia imaš tamo da ne se lizniš Bajram pa evoš Bajram opa uuuu jemil jemil trse trse sote pa Bajram trse ee Bajram obratno obratno sote Bajram če sote pa shnak obratno na mesti ajde Bajram te snimam te snimam da imi pokažem nornaldi na mesti kako skogаш ajde ne samo ti da snimae ajde Bajram da videt ko je Bajram bè mai store ajde Bajram ajde Bajram ajde Bajram a 2 3 Bajram via sreće a bovi la pana ajde Bajram ajde ajde ušenajS t ht no Bajram 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 toga ti ti university bajram bjajram 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 customized zero a door a mamá stani baram na nora stani in boyram na jeda noga Sì, che... Sì, che non è un'annuoglia, sai d'ora? Alla, stai, 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 stai... Vai, 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 vai... Vieni a farci, vieni a scartare, vieni a farci, vieni a guardare... Vieni a guardare le macchine, vieni a guardare...